Ma come si fa a fare la pulizia di una mangiatoia mobile? Chiaramente il sistema è ben rodato. Vedete come il nastro verde che è il nastro mobile è in presenza di residui della mangiatoia alla fine della foraggiata. È possibile riavvolgere questo telo trasportatore che arriva a fondo corsa con una lama che poi è un altro che una paratia ed è possibile quindi poi pulire il nastro trasportatore facendolo funzionare a ritroso. Chiaramente questo video segue quello precedente in cui ho fatto vedere lo scarico dell'Unifed e sono operazioni che vengono effettuate quotidianamente. Una volta richiusa la paratia avrete poi la possibilità di finire le procedure di pulizia e caricare tutto l'avanzo di mangiatoia da questa piccola buca in cemento armato. Vi abbrevio la procedura vi faccio rivedere come è possibile pulire il nastro per poi metterlo nelle condizioni di ricevere lo scarico dell'Unifed successivo. Vi rifaccio vedere ancora l'apertura della paratia che è manuale e l'effetto di pulizia sul tappeto verde. Condividete il video!